Il Salento del basket è in festa. Ad esultare sono in due Nardò, che accede alla fase interzona per la promozione in Serie B, e Palacanestro Lupalec, che ottiene l'aritmetica certezza del salto in C-Silver. Vince in due mosse la squadra di Coccio Olive, bissando ad Ostuni la vittoria ottenuta a Monteroni di Lecce nella gara d'andata. Partita in discesa sin da subito per i Granata, che vincono per 86-71, con Polonara, miglior realizzatore, con 19 punti. Già dal prossimo fine settimana sarà tempo di fase interregionale, con i Neretini subito apposti agli abruzzesi del Silvi, nello stesso girone che annovera anche Palacanestro Sarno e Costa d'Orlando. Rientra in gara anche Castellano Udas Ceregnola, che domenica alle 19 comincia al Paladileo la seconda fase contro la Mezzia, nell'aggruppamento che comprende pure Fabriano e Palermo. In Serie D festeggia con due turni di anticipo l'Upa Lecce. La formazione di coach Bray si conferma punteggio pieno, battendo in casa anche Molfetta per 96-79, rendendo così incolmabile il divario succorato, vittorioso al Palalosito su Invicta Brindisi per 75-67, ed ora seconda da sola. Nel girone B continua il duello a distanza fra prima della classe, che si risolverà probabilmente solo nello scontro diretto dell'ultima giornata. Intanto entrambe si fanno valere in casa, la capolista Anspi-Santerita-Taranto con Monopoli per 87-65 e Murgia-Santeramo contro Olimpia-Rutiliano per 73-52. Per la porre retrocessione, i successi di Fortitudo Trani contro Mesagni e di Cus Foggia a Brindisi contro Assi Posidone lasciano alle sconfitte l'ingrato compito di evitare il cerino dell'ultimo posto, che significa retrocessione. L'incrocio fra le due squadre a tardati due punti è in programma proprio sabato prossimo a Mesagni. Nell'altro girone stessa situazione fra Cisternino e la scuola di basket Lecce, che si affronteranno all'ultimo turno, mentre Cus Bari in anella la sesta vittoria della seconda fase ed anche Bastione-Calimera si mette definitivamente al sicuro.